Mestro! Allora, il taglio di capelli a quando? Sono pronti, alle 18 è pronto, ufficialmente. Alle 18? Ok, ciao! Che cosa pensa Israele? Allora, che cosa vuol dire ai suoi fan? Come oggi in due dei mesi. Che cosa vuol dire ai suoi fan per questo taglio? Sono preoccupatissimi. È un taglio che farò sempre. Ma come andrà? Come andrà? Andrà bene. Andrà bene? Ciao! Ci saluti tutti, Max. Saluto tutti i miei fan. Buona giornata.